Ragazzi, benvenuti su Castium Drums. Nel video di oggi andrò ad aprire questo, questo pacchettino piccolo qua che mi è arrivato da strumentimusicali.net, si può vedere di qui, ed è forse uno dei pacchetti più piccoli che abbia mai unboxato. Quindi vado ad unboxarlo addirittura senza forbici, senza niente, ma nonostante il pacco sia molto piccolo, non so se riesco a aprirlo, però... All'interno ci sono cose che mi incuriosiscono da matti, perché questione accordatura della batteria, io l'ho sempre vista un po' normale, no? Come la vedono tutti, accordo la batteria ad orecchio, sento le cose, eccetera, e io devo ammettere che sono sempre stato super scettico riguardo agli accordatori. Ma l'altro giorno parlando con un mio amico batterista mi fa, provali, perché neanche io ci credevo, ma sono una bomba. Quindi ho detto, vabbò, va bene, facciamo questa prova, perché se un accordatore per batteria funziona veramente è la svolta. Perché, ad esempio, se abbiamo delle registrazioni da fare in più giorni, se abbiamo un suono da mantenere sempre costante all'interno di qualcosa... Che ne so, con gli accordatori avremo il suono perfetto. Quindi oggi voglio di prendere da strumentimusicali.net tre tipologie di accordatore diverso, e oggi voglio andarla a provare. In realtà questa l'ho già provata e ogni tanto mi capita di usarla, cioè la Torque Drum Key, che non sapevo si chiamasse così, di Evans. Questa qua, praticamente, è una chiavetta che poi andremo a vedere, che semplicemente va a vedere il... Oh, che bella questa sconfezione. Va a vedere la tensione di ogni singolo tirante. E quindi noi possiamo dirgli tendilo di più, tendilo di meno, poi dopo vi faccio vedere bene come funziona. Il secondo è un drum tuner D10, drum tuner della Kirub, come si dice, non lo so. Che questo, se non sbaglio, è quello che funziona con l'app del cellulare. Questo affare qui, bello, che è molto carino. E adesso andiamo a vedere come funziona bene. Ah, che bello. Ah, lo metti attaccato alla cosa. Con queste due molle qua, lo vai ad attaccare proprio al cerchio del tuo tamburo e tramite l'app poi vai ad accordare. E infine, mettiamo tutto dentro, se no perdo le cose. Questo tension watch di casa Tama. Questo praticamente, apriamolo, lo appoggiate sulla vostra pelle e vi dirà quanta tensione c'è su ogni singola parte di pelle. Quindi, teoricamente, dovrebbe essere una bomba pazzesca. Bello, 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 bello. Raga, non vi spiego altro. Andiamo direttamente a vedere ognuno di questi prodotti così ve lo spiego bene. Per prima cosa vi voglio parlare di questa chiavetta qua della Evans. Ho messo il mio timpano qua davanti per accordarlo bene. È accordato più o meno come l'ho accordato io, come lo accordo io di solito, ma non è perfettamente accordato e tutto. E voglio provare appunto principalmente col timpano e poi col rullante perché sono un po' i due strumenti, sarebbero un po' più difficili da accordare. Il rullante per una questione di armoniche. Questo perché c'è sempre qualcosa che dà un po' fastidio. Quindi, partiamo con questa chiavetta Evans che in pratica va a sentire la tensione di ogni vite. Praticamente, come potete vedere qua, io ho questa ghiera che fa fino a tre giri, direi, e va da zero a nove. Io posso, ad esempio, andargli a dire voglio sul timpano una tensione di un giro completo e poi mi fermo sul numero cinque. Non è una tensione che vuol dire, ad esempio, se faccio un giro è un tono. No, assolutamente. E sono numeri messi così, però giusto per avere un'idea. Ad esempio, qui ho dato un giro e poi mi sono fermato sul cinque, quindi un giro e mezzo. La prima cosa da fare è mollare tutto quanto, assolutamente. Tutte le viti che ho sul mio timpano, tirarle giù completamente e poi incominciare a tirare con questa chiavetta. Io incomincerò a dare il giro. A un certo punto, vedete, qua la chiavetta si è aperta. Quindi, in questo punto, quando si blocca, vorrà dire che sarà arrivata la tensione desiderata. Quindi io farò questo per tutti quanti i tiranti e ci metto pochissimo, in realtà, con questa chiavetta. Perché, appunto, come potete vedere, quando arriva a quel punto lì, io smetto e cambio direttamente la vite e quindi ci metto pochissimo. Lo sto facendo solo sulla pelle sopra, in realtà andrebbe fatto anche con la pelle sotto, un pochettino più teso. Quindi con la rotellina un pochettino più alta, così da dargli più tensione alla pelle sotto. Non è male. Molto basso. Andiamo a sentire se, ad esempio, io faccio 1.6. Non più 1.5, ma 1.6 come giri. Stessa roba. Adesso velocizzo un po'. Sentiamo. Non è male. Forse è fin troppo tirato adesso, quindi potrei mettere 1.5 e mezzo per avere un suono giusto, però... In realtà non mi dispiace per niente. I pro di questa chiavetta sono sicuramente il prezzo, perché comunque costa poco, costa più di una chiavetta normale, ma comunque per quello che fa è una figata. L'altro pro è che è velocissima, cioè voi impostate 1.5, andate, avete fatto tutto. Poi magari mettete 1.7 per tenderlo un po' più sotto, ma in 20 secondi avete accordato il timpano. Il contro di questa chiavetta qua è che, appunto, non va a vedere veramente la tensione della pelle, veramente la nota che ha una certa pelle, ma va solo a vedere la tensione delle viti. Quindi, se una vite è un po' più grassata, come si dice, ingrassata, come si dice, con un po' più di grasso, magari farà meno tensione, quindi questa girerà un po' di più. Se una vite è un po' arruginita tenderà a far più pressione, quindi questa chiavetta tenderà a aprirsi subito. Quindi questo è un po' il contro, però comunque una chiavetta di queste io consiglio sempre di averla. Io ce l'ho e comunque ogni tanto lo uso, mi trovo molto bene. Ma adesso questa teniamola, teniamola qui. Passiamo all'altro accordatore. Eccolo qui, il KeyRub Drum Tuner DT10. Intanto ho preso anche il mio cellulare perché la prima cosa da fare quando si compra questo accordatore è quella di scaricare l'app DT Tune Buddy. Si chiama così. Come potete vedere all'interno dell'app, tanto io vi metterò il telefono tipo qui, come potete vedere io ho sopra DT10 e DT20 perché sono due tipi di accordatori diversi. Poi ho Drum Set, Snare, Bass Drum e Tom in base a quello che voglio accordare. In questo caso facciamo finta che io voglio accordare tutta la batteria. Quindi vado su Drum Set e qui mi dice Ok, quanta risonanza vuoi? Di più o di meno? Io gli dico un pochettino sì e poi lui mi dà tutte le varie possibilità 10, 12, 14, 16. Io qua ho solamente 10, 12 e 16 perché il 14 timpano non ce l'ho, poi il rullante vedremo dopo e faccio Start. Lui mi dice direttamente tutte le note che dovrò avere. Adesso vi spiego bene tutto perché come potete vedere il tom da 16 con nota D, la cosa che dovete vedere bene è Top Lag e Bottom Lag. Cosa vuol dire? Vuol dire tensione sopra e tensione sotto. Voi andate a schiacciare qui e a mettere il vostro accordatore tra due viti. Qui ci dice Top Lag 318 vuol dire che noi suonando vicino a una vite vedete che qua è 340, 339. Quindi vorrei dire che io per arrivare a 318 dovrò tirare un pochettino giù il mio, usiamo questa chiavetta, la mia vite che sto suonando. Quindi 314, tira un po' su. Eccoci qua, 318. Quindi arrivati a 318 noi clicchiamo su Mark e lui ci terrà 318. A questo punto noi dovremo andare a cercare 318 su ogni tirante lasciando sempre questo qui. Qua siamo a 320 poi raga senza impazzire mi raccomando. 320 andrebbe già bene. Però vedete che quando siamo a 318 lui diventa verde. Se io sono a 339 quindi troppo su, quando è troppo tirata la pelle lui diventa rosso. Vedete che scende? Troppo. Eccoci qua. 318 e la 317 andava bene lo stesso. 318. 371, questo è tiratissimo. Non è male, ma io ho anche bottom lag. Bottom lag che cosa significa? Significa pelle sotto. Volendo ragazzi una cosa che potete fare è quella di stoppare la pelle sotto se state andando ad agire su quella sopra e viceversa. Perché ovviamente quando lo faccio questo un pochettino risuona. Cosa devo fare? Toglierlo, giro al contrario il timpano, vado anche a mettergli le gambette al contrario. Non lo appoggio perché altrimenti non vedreste niente. Quindi mo' lo tengo in mano. Rimetto questo sempre nella stessa posizione identica a prima. Questa volta dovrò andare a mettere 379 perché bottom lag mi dice 379. Quindi marker. 332, troppo poco tirato. 380 va benissimo. Marker. Adesso? Anche tutti gli altri. Eccolo qua. Vedete che praticamente sono tutti uguali. Adesso i tiranti. Giriamo di nuovo e vediamo se ci ha detto giusto oppure no. Togliamo questo che metto qui. Andiamo a sentire come suona? Raga, suona perfetto. Suona perfetto. E' una figata questa cosa. Più che altro perché poi, se volete, per i più avanzati, come potete vedere qua, se io vado su tom, lui mi chiede anche che ottavo voglio avere il tom e che nota voglio avere il tom e soprattutto, a parte questa scritta cinese dove c'è scritto, vabbè, se voglio top head, higher, vuol dire pelle sopra più tirata o pelle sotto più tirata in base all'accordatura che voglio. Se io gli dico voglio l'ottava numero 1, G come nota, risonanza abbastanza, poi gli dico start e lui mi dice a quanto devo tirare. nota G, top lag 276, bottom lag 284 che sarebbe molto più bassa di quella che abbiamo fatto noi. Ovviamente questo c'è per tutto, c'è per il tom, c'è per la cassa in base a che nota vogliamo e in base a che grandezza di cassa abbiamo. e ce l'abbiamo anche sul rullante, facciamo finta, adesso piglio il rullante. Gli dico che voglio pitch G diesis, cioè sol diesis, start, top lag 503, bottom lag 552, quindi comunque molto molto più tirato. Proviamo. Ovviamente qua toglieremo la cordiera, quindi prima cosa andiamo a farci il marker, tiratissimo rullante così. 504, 503, marker. Ovviamente se poi vedete che non piglia bene dove avete la vite potete metterla anche nella vite vicino a quella che state utilizzando, tanto lui tiene sempre la memoria. Adesso pelle sotto, la pelle sotto dovrà essere ovviamente più tirata, dovrà essere a 552. Ho finito... Ho finito di tirare il mio rullante. Forse è meglio se vi metto i microfoni, in effetti mi starete maledicendo tantissimo. E beh, suona rullante in effetti eh. Ovviamente questo, grazie a quest'app, ti dice tutto quanto, anche per quanto riguarda la cassa. Quindi, raga, io devo ammettere che questo mi ha ucciso. Non pensavo che potesse esistere un accordatore del genere, perché questo qua il fatto è che va a vedere veramente la tensione della nota. Non puoi sbagliare quanto tiri una certa vite, perché lui va perfettamente a vedere quanto la stai tirando proprio con un numero. Ti dice, guarda che tu la stai tirando a questa frequenza. E quindi se hai tutte le frequenze uguali, vuol dire che la pelle è perfettamente tesa, identica. Ed è assurdo andare a vedere che quando facciamo questa cosa qua, tutte, tutte, tutte le viti sono perfettamente identiche come suono. E questo io devo ammettere che chiedo scusa di essere stato così tanto scettico. Questa è una bomba pazzesca. In più, l'ultimo che voglio andare a provare, dov'è? Eccolo qui, il tension watch della Tama. Qua dovete praticamente andare a mettere perfettamente dritto il rullante. E poi anche questo è molto comodo per il fatto che se tu lo metti vicino a ogni tirante, lui ti dice quant'è la tensione. Come potete vedere, noi abbiamo appena accordato con il key rub di prima e quindi abbiamo praticamente la stessa tensione su tutto. Vedete che la lancetta va, ve la faccio vedere bene, la lancetta va sempre su 90. E anche se io metto in qualsiasi punto questo tension lock è sempre su 90. Ma ad esempio, guardate, se io vado a scordare il mio rullante completamente. Se vado qui ho quasi 80, se vado qui ho 70, se vado qua ho meno di 70. Quindi vedete, lui mi dice perfettamente quanto ho la pelle tirata. Quindi io ad esempio posso andare a tirare qua, se voglio arrivare a 90 come ero prima, posso andare a tirare e lui pian pianino sale. Ovviamente questo vi consiglio, quando lo fate, tirate, poi tiratelo su e rimettetelo, perché così si setta di nuovo. Io posso andare a mettere di nuovo tutto perfettamente a 90 come potenza, diciamo. È molto semplice anche questo, mi dice quanto devo tirare la pelle. Quando vedo che arriva a 90, questo è super preciso, forse non come quello che abbiamo visto prima, ma comunque si avvicina di moltissimo. Adesso la tensione è costante a 90. Se io vado a suonare il mio rullante... Poi ovviamente a questa accordatura c'è un sacco di armoniche, quindi io farò così... E ho fatto! Ovviamente sul rullante utilizzare questo è un po' più, tra virgolette, semplice, perché il rullante è già molto tirato, quindi tende ad avere una tensione uniforme già di suo, un pochettino più uniforme. Invece nel momento in cui andate a farlo su Tom o su Timpano, vedrete molto più dislivello tra un tirante e l'altro. Ma, con questo qua, in un secondo riuscirete a mettere tutto perfettamente a posto la vostra accordatura. Ricordatevi sempre che la pelle sopra, in generale, va sempre un po' meno tirata rispetto a quella sotto. Quindi ragazzi, arrivati a questo punto, devo dire che sono veramente contentissimo di aver fatto questo video oggi, perché mi sono completamente ricreduto sugli accordatori per batteria. Perché, ok, chiavetta TAMA conoscevo già, super comoda, ha un sacco di Pro perché è comoda, costa poco come vi dicevo, non va veramente a prendere pelo nell'uovo di ogni singolo tirante, ma comunque fa il suo. Il KERUB, raga, lo metto al primo posto perché non mi aspettavo una cosa simile. Veramente non mi aspettavo un prodotto del genere. Infatti oggi è quello di cui vi ho parlato di più, ma perché c'era più da spiegare. Gli altri due, alla fine, anche il TAMA, che funziona comunque benissimo, vanno a vedere la tensione della pelle, quindi quanto la pelle è tirata, o quanto la vite, le viti di ogni tamburo sono tirate. Questo va a vedere la nota. Quindi va a fare il lavoro sporco che tanti batteristi, me compreso, non sono completamente capaci a fare. Cioè andare a vedere veramente qual è l'intonazione di ogni tirante. Io vedo sempre molti batteristi che fanno questa cosa, però ovviamente ad orecchia non è così semplice trovare la giusta intonazione per ogni vite. Con questo devo ammettere che quando lo usi e ti viene tutto verde, ti sta dicendo che lo stai facendo in modo giusto, ogni singola vite è perfettamente la stessa nota. Se si segue quello che c'è scritto sull'app, non si hanno problemi di accordatura. Bisogna prenderci un attimino la mano con questo, perché bisogna capire bene come funziona, bisogna capire bene come tirare, come settare, tutto quanto. Però io ci ho messo 10 minuti e poi sono andato liscio. Abbiamo provato insieme sul timpano, ho provato anche su i due tom in realtà e funziona perfettamente. Unica pecca, se devo dire, è per quanto riguarda la cassa, non c'è la possibilità di attaccarlo alla cassa. Ma contando che questo qua è un microfono che va a prenderti l'intonazione del... è un accordatore in pratica, un accordatore come quelli della chitarra. Contando che questo microfono va a prenderti la nota di quello che stai suonando, se tu lo tieni con la mano vicino alla cassa, vicino alla pelle proprio della cassa e suoni, lui ti dà comunque l'intonazione che hai sulla cassa e quindi è abbastanza semplice anche lì. Peccato non avere la possibilità di attaccarlo alla cassa. Però per stavolta glielo perdoniamo. Io con questo direi che posso finirla qua. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Fatemi sapere cosa ne pensate degli accordatori perché è un mondo un po' nuovo per me. Quindi voglio sapere cosa ne pensate se siete di quelli super contro gli accordatori. Assolutamente bisogna accordare tutto sempre d'orecchio e basta. O se invece li avete già provati anche voi, vi piacciono o non vi piacciono. Fatemi sapere un po' di cose. Voglio ringraziare veramente tantissimo strumentimusicali.net perché oggi mi ha mandato questo pacco minuscolo che però dentro aveva un sacco di sorprese. Questo vuol dire che non sempre il regalo grande fa la differenza, eh? Ci vediamo al prossimo video. Vi lascio tutti i link di cui avete bisogno qui sotto in descrizione. Ciao! 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 Ciao!